Buongiorno a tutti, la presenta Maria Deozzana, questa è la prima volta che veniamo a cantare a Silanos, ringraziamo a tutti gli avventi che sono presenti e le ospitalità che venivano a conosco, a Dardau, vi auguriamo di seguire questa sera, insomma, in allegria e andare a Terraschintu, sempre con salute.